sono simone pagliani nato a roma il 9 settembre del lontano 1973 e ho fatto più o meno tutta la prima parte della mia vita a roma in quanto mio papà era un pilota dell'ati della vecchia di che non c'è più e che è stata poi assorbita dall'italia e che sicuramente ha contribuito a passarmi un po della passione per il volo che poi mi ha accompagnato a me per tutta la vita e lui devo essere sincero ha sempre spinto o meglio ha sempre cercato di motivarmi nell'intraprendere la carriera militare più che quella civile perché era quella che anche lui avrebbe potuto avrebbe voluto fare che poi in realtà per vari motivi non ha non ha potuto fare e quindi sono cresciuto un po con questo desiderio poi spesso c'erano amici a casa si parlava di volo poi c'erano ovviamente alcuni colleghi ex militari e alla fine da cosa nasce cosa e fin dai primi anni del liceo avevo abbastanza ben chiaro quello che volevo fare poi non sapevo ovviamente se sarebbe stato possibile però le idee erano chiare ho fatto comunque un liceo linguistico che c'entra poco col mondo del volo però per entrare in aeronautica va bene qualunque tipo di diploma superiore e quindi a 19 anni ho fatto il concorso in aeronautica e sono entrato col 115 corso opc entrato nel gennaio 95 e ho cominciato a fare tutto l'iter normale che è previsto per diventare pilota militare io ho fatto le scuole in italia posso dire orgogliosamente nel senso che le scuole italiane non hanno nulla da invidiare a quelle estere anzi adesso nei giorni nostri addirittura siamo noi che riceviamo allievi da tutto il mondo per istruirli e farli diventare i piloti militari quindi sono stato molto contento di fare le scuole in italia quindi prima latina con sf2 60 dove c'è la prima selezione poi lecce dove si conseguiva il brevetto di pilota militare alla fine del corso sono sono rimasto lì per fare un corso preoperativo sempre col desiderio che avevo nel cuore che era quello di volare sul f 104 e alla fine di questo corso preparativo fortunatamente sono stato inviato a grosseto per fare la conversione sul sul tf subì posto e da qui è nato diciamo un periodo per me è meraviglioso che è stato quello legato alla difesa aerea la parte ariaria la parte caccia intercettore con questo con questo aeroplano di cui di solito tutti parlano male tranne piloti che ne parlano tutti bene perché era un aereo meraviglioso chi ci ha volato sa a cosa mi riferisco e quindi e in questi quattro anni ho fatto un'attività meravigliosa presso il nono stormo di grazzanese al decimo gruppo caccia tra l'altro ho vissuto un periodo particolare al gruppo perché diciamo sono stato lì a cavallo dell'11 settembre 2001 ovvero sia quando successe e l'attacco terroristico delle torri gemelle ed è stato un po un evento che ha cambiato tante cose in tutte le aeronautiche del mondo per la prima volta si è pensato una minaccia la quale prima non non si pensava o perlomeno non di quelle entità e quindi dal punto di vista esclusivamente del pilota perché ovviamente al di là della tragedia però dal punto di vista del pilota e noi abbiamo cominciato a fare decolli su allarme non dico ogni giorno ma quasi ci facevano intercettare qualunque cosa e nel dubbio si andava per aria e quindi dal punto di vista del pilotaggio sono stati anni meravigliosi proprio per questo e ovviamente erano tutte missioni da semplicemente per di riconoscimento non ci sono mai state situazioni particolarmente complicate però come come prassi se prima diciamo si decollava d'allarme non non troppo spesso diciamo dall 11 settembre è cambiato parecchio e questa secondo me era un'attività meravigliosa a parte che io sono particolarmente innamorato dell'attività aria aria qui non me ne vogliano i colleghi ex bombardieri però c'è sempre stata una sana goliardia tra i due ruoli però ho sempre pensato a questa attività come qualcosa di incredibile cioè il fatto che tu stai dormendo di notte e dopo cinque minuti sei lanciato sei lanciato a supersonico intercettare ancora non sai chi dove ti devi costruire te tutte le geometrie con l'aiuto ovviamente della del guidacaccia però è un'attività dove la parte creativa del pilota viene veramente tanto fuori e quindi questa cosa qui mi ha fatto innamorare ancora di più sia dell'aeroplano che del tipo di di attività e abbiamo intercettato tantissime tantissimi tipi di aeroplani e ovviamente la procedura è sempre quella di non farsi vedere ovviamente per non spaventare nessuno però se c'è un aeroplano fuori rotta se c'è un aeroplano che ha una varia radio se insomma per qualunque tipo di per qualunque tipo di dubbio che bisogna effettivamente andare a vedere con i propri occhi qual è il problema si 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 decolla d'allarme si fa e si va a vedere diciamo l'aeroplano che è sott'occhio perché dove sta andando e se effettivamente ha dei problemi a bordo per i quali potrebbe essere anche aiutato perché può succedere anche questo e mi ricordo un episodio particolare simpatico in cui stavo intercettando ero col mio gregario mi ricordo andrea turco stiamo intercettando un airbus solo che non riusciamo a capire le marche ovvero sia la nazionalità di quest'aeroplano perché non si vedeva non erano chiare e quindi mi sono dovuto spostare un attimo ovviamente noi eravamo io ero sotto l'aeroplano a distanza ovviamente di sicurezza come previsto fare e durante l'intercettazione nello spostarmi per cercare di vedere le coccarde dell'aeroplano un passeggero mi ha visto è stata la prima volta l'unica volta che è successa questa cosa qui ricordo la sua faccia sbigottita io ovviamente poi mi sono subito rimesso sotto quindi lui l'avranno preso ovviamente per per matto ha detto a tutti che ha visto però ecco in quel secondo è stata l'unica occasione in cui ho avuto un così un contatto diretto con un passeggero di un aero intercettato e quindi va beh questo per quanto riguarda l'attività fino al 2002 poi in quella fase lì eravamo prossime alla transizione sul un caccia d'interim perché il 104 era nella sua ultima versione l'asa m e subito dopo l'aeronautica avrebbe preso un caccia per in attesa dell'arrivo dell'euro fighter quindi c'erano in ballo l'f16 che poi fu effettivamente quello che fu preso mi ricordo il mirage 2000 mig 29 e quindi al gruppo eravamo se già erano entusiasti prima eravamo al settimo cielo ovviamente per il fatto di proseguire questa attività con un aeroplano di nuova generazione in attesa appunto dell'euro fighter in questa situazione qui ovvero sia io in particolare dovevo partire dopo pochi mesi per andare a fare la conversione sulla f16 e mi chiamano anzi a dire la verità un mio collega di corso mi fa presente che c'era la possibilità di fare la selezione per entrare alla pan cosa che devo essere sincero tanti diranno di essere entrati in aeronautica con il desiderio unico di entrare a far parte delle frecce tricolori io sinceramente non è il mio caso nel senso io ero innamorato dell'attività che stavo facendo e sinceramente non non pensavo a un futuro di questo tipo qua però questo mio collega mi disse vabbè questo qui però è un treno che passa una volta sola nel dubbio facciamo la selezione anche per andare a vedere com'è l'attività e comunque non ci si vede mai perché lui era un altro gruppo io ero ieri nel mio e quindi con un po così spronato da questa curiosità da una parte il fatto di rivederci con un po di amici dall'altra ho detto va beh andiamo a fare chiediamo di fare la selezione per fare la selezione i requisiti sono più o meno mille mille ore di di attività su aeroplani aerotattici quindi linea caccia che in quegli anni lì voleva dire o 104 mx tornato e quindi feci questa domanda e fu inviata rivolto per fare questa settimana di selezione la settimana me la ricordo come molto molto interessante però non so come dire la vedevo come una cosa forse più grande di me non ho forse non avendo la mai considerata non avevo mai carpito le problematiche le difficoltà di quel tipo di volo durante la settimana di selezione che è fatta veramente bene anzi tra parentesi secondo me l'arma veramente segreta e vincente della pattuglia è il fatto di potersi scegliere i propri piloti che è una facoltà che hanno pochissimi gruppi però è ciò che garantisce di poter avere alla fine al gruppo è un tipo di persona non dico tanto a livello tecnico ma a livello caratteriale che si riesce a integrare in quel contesto lì perché comunque un contesto in cui uno bene o male è sempre giudicato perché quello che fa è sotto gli occhi di tutti e quindi bisogna avere un minimo di capacità di non diciamo di non prendersela di non essere permalosi di sapere fare lavoro di squadra quella cosa molto importante e quindi alla fine il pilota generico medio della pattuglia rispetto di quello che uno possa pensare dove magari uno si aspetta persone un po più stravaganti in realtà il profilo di persone molto tranquille molto positive normalmente e appunto diciamo non che non che sono capaci di accettare le critiche per cercare di migliorarsi ecco e e quindi niente in questa settimana si fa attività di vario tipo ci sono dei colloqui sia singoli che di gruppo c'è una parte ovviamente legata legata all'inglese ci sono delle presentazioni da fare davanti a tutti gli altri piloti e ci sono attività anche extra lavorative come può essere andare a mangiare la pizza tutti insieme che però sono quelle quelle ore in cui viene fuori la parte poi alla fine più vera delle persone che quindi è importante anche quello e poi c'è una parte fatta in volo dove dove vengono fatti dei voli sia singoli che in coppia dove si testano un po le capacità del pilota e poi viene fatta anche attività con la pattuglia ovviamente che vola al completo con i candidati seduti nel posto posteriore per cercare un pochino di capire anche quella che è l'attività che poi eventualmente si andrà a fare io mi ricordo la prima volta che feci questo volo sul dietro al numero 6 che era alessandro fiaschi ai tempi e mi ricordo che sono sceso e c'erano tutti gli altri candidati che era diciamo eravamo tutti in una stanza anche loro hanno volato informazione nei posti posteriori nei posti posteriori e io ricordo che già durante il volo ma poi una volta sceso detto vabbè se avevo il dubbio che questa cosa non si poteva fare adesso con la conferma perché mi sembra una cosa abbastanza complicata e ricordo tutti gli altri che invece dicevano no vabbè ma si complicata sim però non mi è sembrata tutta questa questa difficoltà io dissi allora o non ho capito niente io o non hanno capito niente loro però mi sembrava veramente una cosa complicata e poi vabbè ironia della sorte alla fine di questa settimana ci fu il colloquio finale col comandante e lì per la prima volta avevo capito che c'era un interesse nei miei confronti e paradossalmente è stata quasi una sorpresa un po perché la mia testa era già in america per fare la conversione sulle f16 un po perché avevo preso questa settimana in modo forse che poi forse il motivo per cui sono stato preso io in modo molto rilassato nel senso ero incuriosito dall'attività però avendo già la testa da un'altra parte sono stato molto molto tranquillo e ho affrontato questa settimana in modo molto diciamo sorridente più per curiosità che per altro fatto sta che come succede poi sempre nella vita questa cosa qui ha portato alla fine al fatto che scegliersero me nel 2002 come come pilota e quindi nell'ottobre del 2002 da grazia nise sono stato trasferito in pattuglia e lì è cominciata quella che tanti dicono una meravigliosa avventura ed è proprio così è perché parto dal concetto che sono contento che sia andato così con tutto che ero proiettato a continuare la mia attività nell'ambito della difesa aerea in realtà poi sono cominciati degli anni meravigliosi per altri aspetti però è stata un'attività veramente interessante e quindi niente sono entrato in pattuglia ottobre 2002 e lì un pochino devi tirare non dico cancellare tutto quello che hai fatto prima però di fatto è un'attività talmente diversa con peculiarità talmente differenti da quelle di tutte le cose che avevo fatto fino a quel momento che è stato complicato tant'è vero che con tutto con arriva in pattuglia con tanta esperienza prima di poter fare la prima esibizione da solo ci passano sette otto mesi di addestramento a due barra tre voli al giorno quindi un'attività proprio fisica molto molto pesante molto difficile all'inizio da da riuscire a farsi entrare nel braccio proprio come 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 fatica però come tutte le cose piano piano poi l'attività della pattuglia è molto molto legata al alla quantità di attività che si fa bisogna farne tanta la pattuglia è un gruppo di volo che per poter esistere deve poter volare quotidianamente e quindi ovviamente cominciando da i primi voli singoli e poi con due aeroplani poi poi mano mano si aumenta la difficoltà e si arriva dopo tanti mesi finalmente a volare da soli con la formazione da 10 allora la cosa la cosa più bella di questo periodo che mi ricordo è il e il quanto tutto il gruppo tutto il gruppo dei piloti presenti e cercasse in tutti i modi in tutti i modi di aiutare l'ultimo arrivato in quel caso io ma è quello che si fa sempre con con chi entra in pattuglia per portarlo ad essere pronto per esibirsi da solo quindi c'è c'è proprio una spinta da parte di tutti che ti aiutano in tutti i modi cercando di trasmetterti il più possibile e cercando di farti sentire già dal primo giorno parte di una squadra che non è una cosa semplice all'inizio c'è sentirsi integrati in un gruppo di persone magari così esperte che sono lì da tanti anni però è proprio quello che che si cerca di fare anche se devo essere sincero il momento in cui capisci veramente di essere entrato a far parte delle frecce e me lo ricordo bene quando ci fu la prima manifestazione il primo maggio 2003 che per la prima volta ci esibisce da ci si esibisce davanti al pubblico perché primo maggio sancisce ogni anno l'apertura ufficiale della stagione acrobatica mi ricordo questa questa cosa di essere uscito dal parcheggio iniziato il rullaggio e una volta ha cominciato il rullaggio ho visto tutte le migliaia di persone che erano venute a vederci e per la prima volta ho capito veramente cosa volesse dire far parte di una squadra e questo lo dico perché in quel momento lì non mi sentivo più io come simone pagliani ma come uno dei piloti della battuglia e quindi in quel momento lì io non volevo sbagliare ma non per me ma perché volevo rendere la squadra orgogliosa di me o comunque volevo che la pattuglia risultasse perfetta quindi non io come singolo ma come gruppo e me la ricordo bene questa questa questo tipo di sensazione qui e di responsabilità che ho sentito e quindi niente ho fatto la prima stagione da numero 8 faccio una parentesi quando si entra in pattuglia si entra sempre nelle zone posteriori che sono le posizioni di 7 di 8 di 9 ovvero sia terzo gregario sinistro terzo del destro o secondo fanalino che non sono assolutamente le posizioni più semplici nel senso non sono posizioni semplici perché più si va dietro all'interno della formazione più si subiscono tutti i micromovimenti che sono ovviamente parte normale del volo anzi la formazione è proprio per definizione una correzione continua quindi in realtà non si sta mai immobili diciamo si cerca di esserlo e si cerca di esserlo nella propria piccola bubble diciamo di un mezzo metro in cui in cui si deve cercare di rimanere ecco questo è un po il concetto del volo da pattuglia e quindi dietro in realtà è molto difficile il volo è molto combattuto è bellissimo io mi ricordo delle stagioni da numero 8 meravigliose perché proprio guerra vera guerra vera ovviamente riferita al tipo di volo e a tutte le correzioni bisogna fare però ripeto si entra in quelle posizioni lì perché tra virgolette si può sbagliare un filino di più nel senso che se uno va leggermente fuori posizione in fondo non mette in difficoltà tutti gli altri questo è il motivo per cui si entra diciamo dalle posizioni posteriori se dovesse fare un fuori posizione uno dei primi gregari o il due oltre il sinistro al destro ovviamente si amplificherebbe tutta tutto diciamo questo fuori posizione su tutta la formazione e quindi questo è il motivo per cui si comincia da da lì quindi ho fatto due anni da numero 8 poi sono passato a fare il numero 3 primo gregari o destro e poi ho fatto il 6 che il leader della seconda sezione è quello è colui che vuole al centro della formazione e qui pure si è aperto un po un altro mondo perché la posizione del numero 6 io dico sempre qualcosa che tutti dovrebbero vedere perché è un tipo di volo dove uno ha un po il doppio ruolo se sia gregario quando la formazione è chiusa e diventi leader della tua sezione nonché responsabile degli incroci delle sovrapposizioni e poi dei ricongiungimenti i ricongiungimenti una delle parti più complicate dell'attività numero 6 perché comunque la pattuglia italiana è l'unica che fa tutto di fronte al pubblico e i tempi dei ricongiungimenti dopo le manovre sono veramente ridotti all'osso ridotti all'osso nel senso si cercano di fare nel minor tempo possibile per fare ciò ovviamente c'è bisogno di di tanto addestramento e in quelle fasi lì il numero 6 che dicevo gregario nella parte in cui la formazione chiusa quando invece si fanno le manovre diventa un po lui che si aiuta un po con la sezione davanti con chiamandogli eventualmente piccole deviazioni aggiustamenti di motore cambio di configurazione con gli aerofreni fino al momento della della chiusura di nuovo nella formazione in cui poi il leader è pronto per entrare nella manovra successiva quindi c'è un rapporto tra il numero 1 e numero 6 molto molto intenso in cui sono le uniche due persone che parlano durante il volo per per potersi coordinare per tutte le manovre in generale durante il volo chi parla sono 16 e 10 che il solista e poi ovviamente il comandante che a terra che fa la biga il comandante a terra da più che altro degli aiuti legati magari al vento al all'orografia magari al fare attenzione ad alcune cose un po la big picture da diciamo da dal punto di vista del pubblico è colui che appunto che vede un po bene quello che vede meglio il centraggio delle manovre quindi da degli aiuti alla formazione per poter farle venire le manovre diciamo il più perfetto è possibile e quindi un'attività veramente particolare molto molto interessante in cui poi in quegli anni lì è stata inserita anche una nuova manovra che quella del cuore tricolore e manovra molto complicata perché ci piace fare le cose complicate perché è l'unica manovra che fa la pattuglia dove c'è un incrocio in alto diciamo dove il momento in cui si chiude il cuore tutte le manovre sono effettuate normalmente con degli incroci in basso dove sia uno che sei hanno dei riferimenti a terra su cui andare quindi le separazioni laterali anche se viste dal punto di vista del pubblico sembrano molto molto vicine in realtà c'è sempre un margine di sicurezza che è sempre garantito da dei riferimenti a terra che vengono presi per fare gli incroci quella manovra lì è un pochino più complicata perché invece essendoci un incrocio in alto ovviamente ci sono delle tecniche dell'addestramento in più che bisogna fare per farle venire prima in sicurezza e poi bene perché tutto in pattuglia parte dalla sicurezza addirittura l'ufficiale della sicurezza volo che c'è in ogni gruppo in pattuglia è il solista e che per quanto pure lui possa dare l'impressione di fare un volo a volte fuori controllo in realtà esattamente l'opposto ma un po per tutte le manovre la sicurezza è sempre sempre al primo posto e tutto viene provato centinaia e centinaia di volte anche quando un pilota cambia posizione e magari deve imparare una nuova manovra come per esempio il doppio tonno mi viene da pensare che una manovra molto particolare molto bella anche da volare però è una manovra che ci vogliono mesi mesi di voli a doppio comando sempre con un pilota esperto dietro in pattuglia quando si cambia posizione si vola sempre con un pilota che ha ricoperto la posizione che stiamo imparando in passato e quindi dicevo una manovra come quella del doppio tonno ad esempio viene volata centinaia di volte e paradossalmente non si viene mandati da soli a farla fino a che uno non ne sbaglia una cioè nel senso che fino a che uno non sbaglia una manovra e chi è dietro vede che chi è davanti riesce a recuperare dall'errore con le tecniche che gli sono state insegnate in sicurezza a quel punto allora diciamo il pilota può può volare da solo con la manovra quindi è tutto fatto in funzione di questo anche manovre particolari come la bomba dove c'è un incrocio che è molto d'effetto perché si vedono questi aeroplani che arrivano da nove direzioni diverse a bassissima quota in realtà anche quella manovra lì a molti margini di sicurezza e ognuno al suo riferimento come dicevamo prima quindi non c'è mai il dubbio di chi deve fare cose di chi dove deve passare dove questo fa sì che tutte le manovre appunto vengano vengano svolte in sicurezza anche il fatto che si vola e si fanno manovre verticali a bassa quota anche lì le tecniche che ci sono per fare quel tipo di manovre lì fanno sì che tutte le manovre siano molto molto tranquille vissute da dentro nel senso che non c'è mai la percezione di fare una manovra in cui uno si trova troppo basso che o che avrà difficoltà ad uscire da quella manovra lì questo non succede perché proprio per come viene fatto quel tipo di addestramento lì si fa in modo che ci si garantisca sempre un grosso margine di sicurezza alla fine ovviamente un minimo rischio c'è però la cosa importante ma in tutte le attività questa è una cosa che fanno anche tutte le aziende è gestirlo il rischio il rischio non si può mai eliminare del tutto ma questo anche su un aeroplano civile però si cerca di gestirlo attraverso l'addestramento attraverso la ridondanza dei sistemi sugli aeroplani insomma ci sono molti molti modi per gestirlo l'importante è comunque considerarlo sempre e appunto fare in modo di tenerlo il più basso possibile e quindi dicevo della pattuglia attività veramente particolare dove abbiamo volato un po in mezzo mondo in posti mi ricordo siamo stati nel 2003 per la prima volta a mosca che era non c'era mai stata ancora nessuna pattuglia occidentale quindi è stata un evento un po particolare siamo stati il libano siamo stati in libia quando ancora ci si poteva andare siamo stati in tanti posti veramente dove abbiamo sempre incontrato un abbraccio da parte di tutti sia sia dei connazionali che vivono all'estero perché ce ne abbiamo in tutto il mondo ma sia anche delle popolazioni locali che hanno sempre apprezzato e ci hanno sempre ringraziato per per l'attività che abbiamo fatto e ci sono anche tantissimi club frecce tricolori un po in mezzo mondo anche lì e quindi devo dire siamo sempre siamo sempre parlo del pilota della pattuglia sempre coccolati un po dappertutto e questa è questa una bellissima cosa che però come dicevo prima fa sentire la responsabilità del cercare di lavorare sempre bene al cento per cento il volo con la pattuglia poi è abbastanza è abbastanza demanding proprio perché il volo dura più o meno 23 25 minuti dipende insomma dalle dalle condizioni però sono 25 minuti in cui uno come dicevo prima è sempre sotto gli occhi di tutti quindi qualunque piccolo errore viene visto e non c'è mai la possibilità di riposarsi sembra sembra strano però non c'è mai neanche un secondo in cui uno si possa riposare mi viene in mente il pilota di formula 1 che magari nel rettilineo tira un attimo il respiro e rilassa i muscoli delle braccia magari non lo so in quei dieci secondi di rettilineo in realtà in pattuglia non è così perché uno sta in continua correzione per mantenere la posizione poi ovviamente le accelerazioni sono sono abbastanza elevate sempre e quindi il motivo per cui si vedono spesso i piloti dopo 23 minuti di volo quando scendono che sembra che abbia fatto un bagno in piscina in realtà il motivo è quello lì c'è tanta c'è tanta pressione comunque c'è tanta comunque a livello fisico insomma c'è da garantire una prestazione senza senza poter tirare mai il fiato per cui per quei minuti lì poi spesso c'è al 110 per cento altre in cui per fare la stessa cosa bisogna faticare di più ma questo come capita a tutti quanti l'attività con la pattuglia è durata fino al 2009 2009 ho fatto la mia ultima stagione da numero 6 dopodiché si stava già come dire e formando quest'idea di da parte degli mirati arabi uniti di costituire una pattuglia acrobatica e si stava iniziando a capire che volevano chiedere aiuto all'italia per l'addestramento di questa pattuglia neocostituenda e poi in realtà così è stato e quindi finita l'attività con la pattuglia diciamo una volta convinto di aver appeso il casco al chiodo per diciamo per il futuro in realtà il casco l'ho ripreso pochi mesi dopo perché è stata ufficializzata questa cosa e quindi gli mirati arabi uniti hanno deciso di formare questa pattuglia che si chiama alfursan e quindi io insieme ad altri 6 ex piloti della pattuglia siamo stati selezionati per fare dai istruttori appunto a questi piloti e qui è cominciata un'altra pagina devo dire molto interessante dal punto di vista aeronautico perché come si può immaginare un conto entrare a far parte di una pattuglia dove ci sono nove piloti che sono già super preparati e che volano quel tipo di programma già da parecchi anni dove c'è uno che si deve inserire è un conto è cominciare da zero con sette piloti perché loro volano volavano in sette ai tempi è un conto ecco è creare una cosa dal niente poi devo dire che loro ci hanno dato molto carta bianca su tutto quanto quindi e quindi noi ci siamo dovuti inventare da zero perché non era una cosa era una cosa che non era mai stata fatta prima un tipo di addestramento per poter portare poi entro due anni perché questi i tempi che avevamo erano due anni di poterli portare a esibirsi da soli con una manifestazione aerea ovviamente di un certo tipo perché il nostro primo obiettivo era quello di di far sì che si esibissero un programma bello da vedere bello da volare anche loro volano con gli stessi aeronautico della pattuglia con gli mb 3 39 e quindi lì si è aperta sia un po sono un po tornato alla parte creativa che avevo quando ero nel gruppo al decimo gruppo sul 104 nel senso che ognuno di noi ha potuto mettere prima su carta poi provare in volo e poi passare ai piloti miratini quello che potevano essere le nuove manovre le nuove figure poi quando si crea una cosa da zero una pattuglia da zero ovviamente bisogna cercare di trovare un bilanciamento giusto tra spettacolarità e difficoltà perché manovre molto difficile non è detto che siano spettacolari o meglio magari lo sono però per poterle volare c'è bisogno di più esperienza mi viene in mente come dicevo prima il nostro cuore tricolore che è fatto al contrario partendo dal basso con l'incrocio in alto per esempio a loro gliel'abbiamo fatto fare al contrario ovvero sia con l'apertura in alto e l'incrocio in basso sui riferimenti che è molto più semplice diciamo e magari a livello spettacolare potrebbe anche venire potrebbe anche essere più spettacolare insomma l'obiettivo era di passare soprattutto all'inizio manovre magari un po più semplici sicuramente spettacolari però che gli dessero un modo a loro di poter crescere piano piano e poi eventualmente a portare manovre nuove negli anni successivi cosa che poi è stata fatta perché attualmente adesso il programma che volano è diverso non non completamente però in parte diverso e ovviamente hanno aumentato il livello di difficoltà e l'attività con loro è stata molto molto bella anche a livello umano perché la cultura è completamente diversa dalla nostra il modo di interfacciarsi è un po diverso anche il come riprendere il pilota che commette magari un piccolo fuori posizione è un po diverso da come si fa con i nostri connazionali nel senso tra di noi diciamo italiani c'è c'è un modo molto più diretto magari di dirsi le cose con loro special inizio abbiamo dovuto trovare un po le parole giuste per poterli far rendere al meglio perché poi quello che deve fare l'istruttore sempre è sempre questo cercare di capire chi è davanti e cercare di trovare il modo per fare rendere a lui la sua massima prestazione e quindi questa attività qui è cominciata all'inizio a rivolto perché loro sono venuti qualche mese rivolto per l'infarinatura iniziale diciamo dove volevamo uno o due aeroplani dopodiché ci siamo trasferiti noi a dubai dove siamo stati un anno e mezzo ed abbiamo proseguito con l'addestramento l'attività ovviamente condizioni completamente diverse da quelle a cui era abituati perché il volo viene effettuato su competente su sabbia nel senso la loro base si trova su una parte desertica diciamo della città e problematiche anche legate al la sabbia spesso quindi che limite la visibilità la temperatura che vi lascio immaginare poi loro hanno gli aeroplani neri colorati colorati neri nero e oro e quindi veramente temperature estreme talmente estreme ci sono stati giorni in cui col 339 si rulla col tettuccio si può rullare col tettuccio semi aperto ovviamente che è quello che facciamo sempre perché per avere un minimo di di aria durante fasi del rullaggio che sono quelle in cui il motore che al minimo non riesce a condizionare l'aeroplano e quindi si rulla col tettuccio semi aperto e poi una volta a punto attesa prima di decollare ovviamente si chiude il tettuccio è successo a volte che la temperatura così così estrema che probabilmente c'è stata una piccola dilatazione nei meccanismi del tettuccio che non riuscivamo a chiudere abbiamo dovuto cancellare dei voli perché non si riusciva a chiudere il tettuccio e al punto attesa questo per dire le temperature e si doveva salire e scendere dall'aeroplano con i guanti rigorosamente perché toccare la fusoliera nera a 50 gradi non era salutare e questo quindi succedeva dal 2009 che l'anno in cui appunto finito con la pattuglia ho cominciato l'attività con gli miratini e fino al 2012 nel 2012 abbiamo lasciato diciamo la la pattuglia al fursan ormai capace di volare da sola e anzi e abbiamo anche fatto in modo che i piloti fossero anche abilitati nel posto posteriore per poi poter trasferire le loro esperienze ai piloti che sarebbero arrivati dopo e quindi nel 2012 ho cambiato completamente completamente diciamo attività perché ho lasciato la riunione militare per entrare in eni io sono un pilota dell'eni faccio il comandante sul falcon 900 qui a ciampino presso la sede dell'eni e ho cominciato quindi un'attività completamente diversa dove è stato difficile intanto riuscire a lavorare in due perché ho fatto una vita a lavorare da solo e paradossalmente è complicato dividere la testa o meglio cercare di farsi di integrare un'altra persona il cockpit per fare lo stesso lavoro che per vent'anni uno ha fatto da solo quindi questa è stata la prima difficoltà è un'attività appunto completamente diversa interessante però perché abbiamo interessi un po in tutto il mondo in tutti i posti particolari quindi a differenza delle attività magari che si fa nelle nelle linee civili dove un po tutto cadenzato schedulato e programmato noi spesso ci troviamo andare in posti nuovi dove dove comunque bisogna andarsi a vedere come gestire alcuni aspetti come come gestirsi anche con i locali che con i quali ci dovremo interfacciare che spesso magari non parlano inglese o comunque lo parlano al limite o comunque aeroporti che hanno procedure particolari insomma è un tipo di attività che nell'ambito civile è comunque interessante perché permette di metterci un po del proprio ecco e quindi questo lo sto facendo dal 2002 e penso sia l'attività che che svolgerò anche in futuro l'ho condita ogni tanto con qualche volo con i velivoli ultraleggeri e che ogni tanto fa bene come dire fare un tipo di volo completamente a vista perché ovviamente il volo che si fa nell'ambito commerciale è tutto quanto strumentale e invece avendo fatto la prima parte i miei primi vent'anni di vita aeronautica praticamente guardando solo fuori ogni tanto è bello fare qualche volo diciamo riscoprendo le caratteristiche che sono quelle del volo al vista e di andare a vedere i posti e di navigare con pru a tempo anche se adesso devo dire i gps ci hanno un po impigriti da questo punto di vista col 104 mi ricordo era molto complicato fare fare anche una semplice navigazione perché ci si aiutava con veramente poco e questo è un po il mio iter grazie a tutti